Carpos è anche adventure bike. Abbiamo una linea completa di capi pensati proprio per il bike outdoor. Abbiamo una serie di pantaloni in combinazione con le maglie, una serie di giacche e tutti gli accessori necessari. Se andiamo nello specifico abbiamo diversi pantaloni che possono essere usati anche come outdoor, non solamente come bike. Il fondello è a parte quindi può essere usato solamente per un utilizzo in bike. Abbiamo poi una serie di magliette con la zip lunga, zip corta e girocollo e le giacche. Abbiamo l'antivento, leggera, comprimibile, antipioggia, completamente termonastrata e tutti gli accessori necessari per affrontare la tua avventura con la mountain bike. La nostra giacca lot è il nostro antivento estremamente leggero e comprimibile. Ha un trattamento DVR che ti permette di affrontare anche situazioni di pioggia leggera. Ideale per la mountain bike, per il trekking, il climbing e tutto l'outdoor in generale. Come vedete sta in pochissimo spazio. C'è il suo sacchettino che è compreso nella giacca e in pochissimo tempo vedete che la giacca riesce a stare in pochissimo spazio e la potete portare tranquillamente con voi. La potete attaccare tra l'imbrago e all'interno del vostro zaino. In una mano la Lot Jacket. Questa è la Lot Rain Jacket, una delle nostre giacche più innovative e leggere. Pesa solamente 184 grammi, completamente termonastrata. 20.000 colonna d'acqua, 20.000 traspirazione. Ci sono alcuni dettagli molto interessanti come il bottone per essere chiusa anche con la zip aperta, quindi molto traspirante. Zip petto, il fondo manica aperto per essere usato anche con l'utilizzo del guanto. Una delle nostre giacche più particolari da portare sempre con sé in situazioni estreme. La Lot Rain Jacket può essere ripiegata nella sua tasca in maniera molto semplice e occupa pochissimo spazio. Può essere portata dentro lo zaino, attaccata all'imbrago, in qualsiasi situazione outdoor. E in pochissimo spazio, pochissimo peso, tu riesci ad avere una giacca completamente termonastrata che ti può essere d'aiuto in qualsiasi situazione outdoor. Grazie a tutti.